Ciao e benvenuto su elenco prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori affettatrici. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista c'è Ritter 500 1000 Markand 01. L'affettatrice RGV è la macchina ideale per tagliare e affettare verdure, frutta e altri alimenti. È molto utile quando si preparano pasti per molte persone o quando si vuole preparare una buona insalata a casa. L'affettatrice ha una lama professionale di 220 mm di diametro, temperata ed estremamente affilata che vi permetterà di effettuare tagli precisi sui vostri prodotti. La struttura in alluminio fuso con base laccata rossa garantisce stabilità durante l'uso. Anche il coprilama, il piatto e la paratia sono in alluminio ossidato. L'affettatrice ha anche un piede antiscivolo che la terrà in posizione durante l'uso. L'affettatrice RGV è la punta perfetta a qualsiasi cucina. Ordina la tua oggi stesso. L'affettatrice RGV è la macchina ideale per tagliare e affettare verdure, frutta e altri alimenti. È molto utile quando si preparano pasti per molte persone o quando si vuole preparare una buona insalata in casa. L'affettatrice ha una lama professionale di 220 mm di diametro, temperata ed estremamente affilata che vi permetterà di effettuare tagli precisi sui vostri prodotti. Il telaio in alluminio fuso con base laccata rossa assicura la stabilità durante l'uso. Quattro gradi posto abbiamo RGV Luxor 22 affettatrice. L'affettatrice RGV è la macchina ideale per tagliare e affettare verdure, frutta e altri alimenti. È molto utile quando si preparano pasti per molte persone o quando si vuole preparare una buona insalata a casa. L'affettatrice ha una lama professionale di 220 mm di diametro, temperata ed estremamente affilata che vi permetterà di effettuare tagli precisi sui vostri prodotti. La struttura in alluminio fuso con base laccata rossa garantisce stabilità durante l'uso. Anche il coprilama, il piatto e la paratia sono in alluminio ossidato. Le ventose sui piedi mantengono l'affettatrice saldamente in posizione durante l'uso. L'affettatrice è facile da usare e pulire e viene fornita con una garanzia di un anno. L'affettatrice RGV 220 è perfetta per tagliare e affettare verdure, frutta o altri alimenti. Con un diametro professionale di 220 mm, temperato ed estremamente affilato lama, è possibile effettuare tagli precisi sui vostri prodotti. Il telaio in alluminio fuso con base laccata di rosso assicura la stabilità durante l'uso, mentre il coperchio della lama, il piatto e la paratia sono in alluminio ossidato per una maggiore durata. Numero 3. Abbiamo Severinas 3915 affettatrice. L'affettatrice universale in metallo Severin è una pratica affettatrice per uso domestico. Le due lame in acciaio inossidabile sono intercambiabili e la lama liscia universal può essere utilizzata per salumi, carni, formaggi e altro. La lama dentata è perfetta per cibi duri come salsicce stagionate e pane. L'affettatrice Severin Metal Slicer dispone di una posizione inclinata del materiale da tagliare. Questo ti permette di regolare lo spessore delle tue fette con un semplice movimento da 0-15 mm. La regolazione continua rende possibile affettare diversi tipi e spessori di cibo rapidamente e facilmente. Il design ergonomico dell'affettatrice Severin Metal Slicer assicura anche una presa sicura e confortevole per utenti mancini o destrorsi. Con le sue dimensioni compatte, l'affettatrice universale Severin è perfetta per le piccole cucine. L'affettatrice universale in metallo Severin è facile da pulire e lavabile in lavastoviglie. L'affettatrice universale in metallo Severin è una pratica affettatrice per uso domestico. Le due lame in acciaio inossidabile sono intercambiabili e la lama liscia universal può essere utilizzata per salumi, carni, formaggi e altro. Numero 2. Abbiamo affettatrice elettrica da. L'affettatrice elettrica Ostba Home è un apparecchio da cucina ideale per affettare carne, formaggio e verdure. L'affettatrice ti permette di affettare il cibo con precisione, rendendoti un buon cuoco a casa. È facile da pulire e il design estetico rende la sanificazione un gioco da ragazzi. Questa affettatrice è dotata di una funzione di protezione di sicurezza che richiede che il pulsante di accensione e il blocco di sicurezza siano premuti contemporaneamente per evitare errori. Una lama universale in acciaio inossidabile fornisce tagli precisi dei tuoi cibi preferiti e verdure, mentre la sua maniglia ergonomica ti dà un comodo controllo sul dispositivo mentre scivola dolcemente attraverso i tuoi ingredienti. Quindi, se stai cercando un'affettatrice da cucina facile da usare, sicura e affidabile, l'affettatrice elettrica Ostba Home è la scelta perfetta per te. L'affettatrice elettrica Ostba Home è un elettrodomestico da cucina ideale per affettare carne, formaggio e verdure. L'affettatrice ti permette di affettare il cibo con precisione, rendendoti un buon cuoco a casa. È facile da pulire e il design estetico rende l'igienizzazione un gioco da ragazzi. Per finire, il numero 1 della nostra lista è RGV Affettatrice Mod. L'affettatrice RGV Mod 25 Special Edition red è un'affettatrice professionale di alta qualità realizzata in alluminio e di colore rosso. Ha una garanzia di 2 anni e un potente motore da 140 Watt. La lama ha un diametro di 250 mm e può tagliare fino a 14 diviso 16 mm di carne. Viene anche fornito con un anello fisso per la protezione della lama e la chiusura sul fondo. Le dimensioni del prodotto sono 45 cm x 25,5 cm x 17 cm. Questa affettatrice è facile da pulire e non richiede alcuna manutenzione speciale. È anche certificata CEGS. Se stai cercando un'affettatrice per carne di alta qualità e di livello professionale, allora l'affettatrice RGV Mod 25 Special Edition red è la scelta perfetta per te. Con il suo potente motore da 140 Watt e il diametro della lama di 250 mm, può facilmente gestire anche i tagli di carne più duri, fino a 14 diviso 16 mm di spessore. L'anello fisso sul fondo protegge la lama e aiuta a tenerla in posizione, mentre il design facile da pulire rende la manutenzione un gioco da ragazzi. Grazie per la visione! Grazie per la visione!